Ma un bene perché abbiamo recuperato qualche giocatore che può essere molto utile, nel senso che sono a disposizione sia Frank che Melegoni, non avremmo avuti a disposizione se avessimo giocato sabato per dire. Perciò questo è un aspetto importante, poi anche ci ha consentito di lavorare sugli errori che abbiamo fatto, di essere molto più precisi su certe cose, di parlare con la squadra dove dobbiamo migliorare per far meglio, perché ultimamente stiamo concedendo troppo e questo non va bene. Fiorillo si è recuperato al 100%, Fiorillo ci sarà, no non cambio modulo, porca miseria ma lo tirate fuori, non lo cambio. Nessuno mi muoveva una critica sul centrocampo che avevamo noi, nel senso che noi all'inizio abbiamo fatto 26 punti con un centrocampo di questo tipo qua, abbiamo fatto delle grandi partite con questo centrocampo qua, consideriamo un po' tutto, poiché nell'ultima parte non siamo stati compatti, allora questo è un altro discorso. Tutti e 11 fanno una fase difensiva, no, 3 o 4 o 5 o 6 o 7, tutti e 11 devono fare una fase difensiva. È una partita molto tosta perché da quando è arrivato Zenga ha proprio cambiato marcia, nel senso che vedi una squadra molto propositiva, molto organizzata, mi piace come ha giocato, ha fatto un passo falso domenica ma è normale, ha fatto una grande ricorsa e ha pagato un po' la grande ricorsa che hanno fatto, può succedere anche a livello mentale, a livello fisico, possono aver calato in quella partita. La cosa che hanno è che è una squadra molto esperta, ha dei giocatori proprio di categoria, esperti, sanno leggere i momenti della partita, sanno leggere le situazioni e lui è anche bravo a modificare l'assetto di squadra perché vedo che nelle ultime partite ha modificato spesso l'assetto della squadra.